Ritorna ad essere incerto il destino della sede di AEM in Viale Trento e Trieste dopo che era stato annunciato il suo recupero. Trapilano nuove indiscrezioni. Al momento è stato sospeso tutto. Ci sarebbe infatti un ripensamento del Comune rispetto all'idea iniziale di trasferire lì i suoi uffici di Via Aselli. L'intento infatti era quello di sistemare la sede di Viale Trento e Trieste e di mettere a disposizione l'immobile per gli uffici non solo di AEM, ma anche degli uffici comunali di Via Aselli, in tutto più di un centinaio di impiegati comunali. Ma dopo che il Comune ha vinto quei 15 milioni di euro recuperati attraverso un bando per sistemare il comparto di Via Radaelli, che comprende anche gli uffici di Via Aselli, ci sarebbe un nuovo orientamento, cioè quello di sistemare questo enorme comparto e mantenere gli esistenti uffici, oltre a costruire abitazioni per il sociale. Questo nuovo indirizzo farebbe risparmiare ad AEM partecipata del Comune di Cremona quei 4 milioni e mezzo di euro che servivano per la sistemazione del vecchio stabile di Viale Trento e Trieste, che potrebbe ricomparire a questo punto di nuovo tra gli edifici alienabili come già lo era stato in passato.